La Toscana ha portata di clic in dieci tappe sul territorio, una per provincia con partenza da Lucca. È l'itinerario che la Regione ha organizzato con Anci e Cispel Toscana per far conoscere a cittadini e imprese l'agenda digitale. Ogni tappa di Toscana Digitale prevede incontri aperti e gruppi di lavoro su quattro temi dell'agenda, banda larga e ultralarga, il portale online Open Toscana, Smart Cities e comunicazione pubblica. Vorremmo fare questa azione di presenza, di spinta verso il territorio e anche di occasione per ricevere da aziende, da comuni, da associazioni di categoria, da associazioni che si occupano delle questioni del sociale, indicazioni che ci possano far crescere con maggiore velocità e far dare risposte efficaci. In Toscana la banda larga è stata portata nel 2016 anche nelle zone più periferiche, con più di 30.000 utenze attivate e ora 257 milioni di euro sono stati investiti da Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico per portare per la prima volta in Italia la fibra ottica nelle zone bianche, cioè non coperte dagli operatori. Più si innovano le pubbliche amministrazioni, più le risposte arrivano ai cittadini e alle imprese. Da questo punto di vista sono impegnati direttamente i comuni, tutti i comuni toscani, in questo lavoro che abbiamo fatto insieme alla Regione Toscana. Gli incontri di Toscana Digitale saranno anche un momento di confronto per ascoltare richieste, istanze e idee dei cittadini.